Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Classica ma non troppo. Nelle scorse settimane abbiamo terminato il lavoro su Gaetano Donizzetti, ora ci ritroviamo nel periodo estivo e come di consueto durante l'estate interrompiamo quella che è la narrazione tradizionale di Classica ma non troppo per dedicarci ad alcuni brani che introdurrò e che poi avrete la possibilità di ascoltare. Partiamo dal concerto per archi RV156 di Antonio Vivaldi, questo concerto in sol minore molto bello, molto interessante che poi vi farò anche ascoltare da una registrazione di un'esecuzione dal vivo. Per introdurre questo concerto bisogna cominciare col dire che siamo nella Venezia del 1700, una città estremamente fiorente dal punto di vista musicale, si potevano infatti ascoltare tutti i generi musicali che erano molto sviluppati. Pensiamo ai numerosi teatri che vi erano in quella città dove si poteva ascoltare l'opera, quindi il melodramma, oppure l'importantissima Basilica di San Marco dove vi era la possibilità di ascoltare i coi, quindi musica sacra. Nei salotti dell'aristocrazia vi era invece poi la possibilità di assistere a dei concerti di musica strumentale, ma non solo, anche quelli che venivano chiamati i pi ospitali. Cos'erano? Erano delle strutture, quelle che oggi noi chiameremmo orfanotrofi, che accoglievano appunto gli orfani oppure i figli di famiglie poveri, che quindi venivano affidati a questi pi ospitali e che qui venivano poi appunto mantenuti ed istruiti. In particolare i pi ospitali che accoglievano le ragazze erano molto importanti dal punto di vista musicale. Perché? Perché a queste ragazze veniva data un'istruzione musicale, sia vocale che strumentale. Ed è proprio nel pi ospitale della pietà, dove uno di questi orfanotrofi femminili, dove Antonio Vivaldi lavorò per più di 17 anni come musicista-compositore e si occupò sia del coro che dell'orchestra delle ragazze. E sono molte le testimonianze di musicisti importanti dell'epoca che avevano assistito alle rappresentazioni sia strumentali che vocali di queste ragazze che elogiavano il grande livello artistico ottenuto da queste. Ed è proprio per queste ragazze del pi ospitale della pietà che Vivaldi Vivaldi comporrà numerose composizioni, sia sacre che musicali, tra cui anche questo concerto in sol minore RV156, che è proprio un concerto per archi e basso continuo, diciamo un tipo di concerto che crea proprio di Mario Vivaldi che si discosta sia dal concerto solistico che dal concerto grosso, forme di cui abbiamo ampiamente parlato nelle scorse puntate, dove appunto in questo concerto per archi non vi è una figura solistica che spicca, ma tutti i protagonisti appunto di concerto concorrono alla realizzazione musicale dell'opera. Questo concerto è diviso in tre movimenti, quindi un allegro, un adagio ed un allegro finale, di breve durata, quindi circa due minuti l'allegro iniziale, un minuto e mezzo l'adagio e circa due minuti l'allegro finale, e ha la solita struttura, quindi violini primi, violini secondi, le viole, uno strumento che realizzava il basso, quindi che poteva essere il violoncello o il violone, e il basso continuo, che poteva essere affidato al clavicembalo o alla tiorba o il liuto. Sappiamo che il basso continuo, se per esempio realizzato dal clavicembalo, veniva utilizzata con la mano sinistra, veniva eseguita la parte coincidente a quella del basso, e con la mano destra appunto veniva realizzato il famoso basso continuo, che veniva improvvisato secondo delle regole ben precise, come si fa tutt'oggi. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana, dove introdurremo e poi vi farò ascoltare il primo movimento di questo concerto in sol minore. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.